Siete pronti? Bene, allora, signori e signori, fullback, i brani da loro scelti sono... Fullback! Buonasera a tutti, io ringrazio l'organizzazione per averci scelto per fare questo concorso Adesso, dopo una serata molto calda, vorremmo un po' tranquillizzarla con la prima canzone per voi di farla diventare incandescente Noi siamo abbastanza emozionati perché davanti a molta gente, insomma, credo che tutti siano emozionati E la prima canzone che canteremo è Delisa Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti